Clima tesissimo alla vigilia del big match del campionato di eccellenza tra Gela e San Cataldese, seconda contro prima, previsto per domenica prossima a Vincenzo Presti. Le due squadre sono divise da tre punti in gradatoria. La goccia che ha fatto traboccare il vaso tra le due società è riconducibile ad un comunicato stampa pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook dalla dirigenza Nissena. Il titolo è emblematico, contro tutto e contro tutti. Nel comunicato si legge frase da sempre conosciuta ma molto appropriata dopo ciò che abbiamo visto oggi. Noi siamo la San Cataldese, una società che da due anni ha intrapreso un progetto pazzo ma onesto e sincero. Allestire una squadra di giovani e forti è divertirci. Forse il nostro modo di divertirci e il nostro essere primi in classifica danno fastidio a molti. E oggi si è visto. L'arbitro, il signor Enrico Gemelli, ha fatto tutto quello che lo sport non può accettare. Espulsioni di Davide Di Marco e Bruno, assurde ed incommentabili. Ammunizione dell'unico diffidato Montalbano, espulsione del mister alquanto misteriosa. Assurdo, si legge ancora, commentare questo bollettino di guerra, valido solo per la San Cataldese e nulla invece per gli avversari. Il nostro cuore e il nostro attaccamento alla maglia hanno vinto, anzi stravinto. Domenica, si legge ancora, andremo a Gela, rimaneggiatissimi come se qualche imposizione dall'alto volesse questo. Ed eccoli accontentati. La nostra non è una lamentela, ma un monito a chi sta più in alto di noi e controlla la regolarità del campionato. Aprite gli occhi, inviate arbitri, serie e competenti, irradiate, si legge ancora, questi incompetenti che non fanno altro che rovinare il vero calcio. Non fatevi influenzare da chi vuole, pretende e tende a direttare le leggi in modo disonesto e da dietro le quinte. Fate il vostro dovere in modo onesto e vedrete che il calcio continuerà ad essere lo sport più bello del mondo. Questo, come dicevamo, è quanto scritto dalla dirigenza della San Cataldese. Il gioco da calcio ha subito preso una posizione netta investendo di quanto accade la Lega Nazionale di Dettanti, Comitato Regionale Sicilia, per le eventuali azioni sul piano sportivo, mentre invece sul piano penale il club biancazzurro, preseduto ad Angelo Tuccio, chiederà l'autorizzazione così come previsto dalle norme vigenti, con lo scopo di poter procedere presso l'autorità giudiziaria ordinaria per poter difendere la propria onorabilità sportiva gravemente lesa dal comunicato della società sancataldese. Clima dunque arroventato, perché è inutile girarci attorno, alcuni passaggi di quel comunicato della San Cataldese lanciano strali e dubbi, mica da poco, e il gioco da calcio giustamente non ci sta.